idea la trasmissione della tv 38 che vi propone gli appuntamenti da non perdere della nostra regione al teatro verdi di firenze in scena caveman quali sono gli altri eventi in toscana appuntamento imperdibile il sabato sera su rtv 38 arrivano le nuove puntate di eva luna altre idee degne di nota è tutto alla prossima puntata di idea la toscana da vivere 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 la toscana da vivere